Ciambella bicolore per la colazione all'italiana In una ciotola mettete la farina Aggiungete lo zucchero Ed anche il lievito per dolce L'olio di semi Le uova E l'acqua Cominciate a rimescolare gli ingredienti a mano Poi è meglio passare allo sbattitore elettrico oppure a una planetaria Dividete il composto in due ciotole In una di queste ciotole addiggete il cacao setacciato E rimescolate Alla fine sembrerà cioccolata Preparate una tortiera rivestendola con la carta forno E senza coprire tutto il fondo Versate il primo composto Tenendone un po' da parte Ora versate la cioccolata nei buchi che sono rimasti E completate tutto con quello che era avanzato prima Preriscaldate il forno a 180 gradi E cuocete per 45 minuti Se ti è stato utile metti un like e iscriviti al canale Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti